Allora, ci lanciamo, aspetta che entriamo nella mappa, ok siamo sotto, aspettiamo di passare il fiume e ci lanciamo, è presente dove c'è Pukinki? Ecco ci sono delle case subito a sud est, ci lanciamo lì 3, 2, 1, vai Vediamo queste qua sotto, si, non ti piacciono? Si, l'hai detto con un tono, no vediamo se sto giro non riesco a morire all'istante C'è la gente qua, non l'ho vista, oh sono lontani Minchia, è pieno di gente Vito, io sono atterrato fuori Come è pieno di gente, cazzo dici? È pieno di gente E non c'è una minchia Puttana Eva Come c'è, non hai aperto la porta giusta Cappellino, guanti, caricatori Cazzo, bravo Ah qua se ne ha dovuto, cazzo ci vado a fare oppure io C'è una pistola qua, zio Qua sopra, eh Cioè dove sono andato io non l'ho vista Eh non l'hai aperto sta porta Ah Andiamo via Sì Aspetta un attimo Senti Sì Sì No, no, no Ma guarda Ma dove ti ha sparato? Dalla finestra sto bastardo No, guardalo che è qua fuori, è qua fuori, eh zio Ok Pigliolo, pigliolo, è di là Devo ricaricare A chi ha preso? Ah, me No, ricarica, sono in due Erano in due Ma poi siamo morti tutte e due Sei contempo? Ahahahahah 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 Mica però gli ho sparato sto stronzo Pure io Ho fatto fuori due caricatori Andiamo su Airstone Fa la missione Sì anche perché mi si è bloccato Ma solo a me si blocca Si è bloccato Parca Puttana Va bene Andiamo su Airstone Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti